C'è chi fa indigestione di caviar, di ostri che tartù che poi sta mal, chi per dimenticarmi i miellulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più. I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do. Cari amici, date retta a me, ricetta più pregevole non c'è. Spaghetti e buon umore non son cose da signore, ma son buone per un tipo come me. Un tavolo di amici, due chitarre, una canzone, mille stelle per l'ampione su nel cielo. Spaghetti e buon umore, niente cure né dottore, ma la gioia in ogni cuore sempre c'è. Se c'è qualcuno che la pensa come me, l'invito a casa mia può venire a tutte l'ore. E che spaghetti e buon umore troverà. Il restaurant francese, sì lo so, ha piatti prelibati, anziché no. A Londra trovi sempre del buon tè, a base c'è il purè, in Cina il riso c'è. I gusti sono gusti, sì va bene, però se mi ascoltate vi conviene. Cari amici, date retta a me, ricetta più pregevole non c'è. Spaghetti e buon umore, non son cose da signore, ma son buone per un tipo come me. Un tavolo di amici, due chitarre, una canzone, mille stelle per l'ampione su nel cielo. Spaghetti e buon umore, niente cure né dottore, ma la gioia in ogni cuore sempre c'è. Se c'è qualcuno che la pensa come me, l'invito a casa mia può venire a tutte l'ore. che spaghetti e buon umore troverà. Spaghetti e buon umore troverà.